Dovete sapere che è venuta a casa nostra, Raffaella Carrà a casa nostra, non l'ho potuta fotografare come ho fatto con Mike però. Sì, vabbè, è meglio. E mica ha posato la forchetta, mi ha chiamato un taxi, ha continuato a mangiare. Mi piace molto mangiare, insomma suona benissimo, quindi musica classica presa un po' dalla mamma perché tu... Totalmente dalla mamma. Totalmente dalla mamma. Allora devi sapere che lei a un certo punto va a dormire, noi mangiamo in questa bellissima cucina e facciamo un po' di amicizia. Breve perché parlavamo noi adulti. Esce dalla porta e con la porta socchiusa io vedo Angelica e vedo un posterino con I, I, il cuore, you, I love you. Ah, dico Angelica, hai 12 anni, hai già un fidanzatino? Lei mi fa? No, è per papà. Hai capito che mi sono commossa? Tu questo? Lo so, ma dura da poco. Perché? Eh, 12 anni, vedrai che a 15 anni busserà alla porta. E tu da siciliano che fai? Ciao, sono Jonathan, sono venuto a prendere Angelica. Succederà. Non sono un ballerino, ma ballo. A proposito di ballo, anche lì, te sei pigro perché tu ami il ballo da morire. Mi è sempre piaciuto. Ecco, ma tu lo sai… Io avrei voluto fare il ballerino, ho fatto pure uno show che si chiamava così, Voglio fare il ballerino. Voglio fare il ballerino. Ma tu lo sai che cosa significa saper ballare? Andare a lezione, avere fatica e dolori dalle gambe, le caviglie, le coce, e poi si riesce a fare anche un pezzo, come ti dico io che ho fatto, che si chiama la rumba degli scugnizi, che io mi sono messa a piangere e ho detto a Landi… Con Gino Landi. Sì, ma gli ho detto non ce la farò mai. E invece mi ha preso da una parte Umberto Pergola, il suo assistente, mi ha detto vieni Raffaella, ti insegno io un pezzo di una difficoltà. Di tarantella. No. Che sta rumba degli scugnizi. No, 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 il finale era fatto che sta rumba, pom, pom, che sta rumba, che sta rumba, che sta rumba degli scugnizi, pom, 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 ragazzi, ma non… E l'hai fatta però? Però non so come, ma lo fa. Com' a tanta dire non, si viene all'es circusa, a schcuza, fino a quando non scaviți… Che sta rumba degli scugnizi. Che sta rumba degli scugnizi… Re scugnizi. Rumba… Che sta rumba, che sta rumba, gesta rumba degli scugnizi. Rumba degli scugnizi. quindi tu non sei un ballerino ma balli con le braccia tutte storte ma è che a te ti si perdona tutto ma che tutto è storia ma scusa e scusate scusate adesso cioè adesso no adesso però non si può fare c'è il tappeto che se proprio fa la pirouette qui mi si impianta il ginocchio no no fermo fermo poi dici io non so fare l'attore matto matto e come atto io non alta nessuno vabbè con tutti sai che vuol dire questo che praticamente non so far niente bene e come però faccio un po di tutto ma perché se lo faccio a modo mio ma perché se un numero uno allora troppo modesto ascolta per finire 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 che facciamo però mi sono accasciato ormai man mano mi accascio sempre di più accasciamo come quella canzone adesso un attimo di tenerizza no no con me salame sta buono salame ti hai detto hai cantato insieme a tuo fratello una canzone questa e voi bezzuzza mia dormita ancora lascia di su non sta anche i ricantare sentire ari e affridato e da spetta nuca a forà Sopra lì bar con eddi supposati e aspettano quanne cavaffacciati, lassati stari, non dormiti chiui. Tuka tuka con la canzone siciliana. Basta, mi fai venire da piangere perché questa canzone l'avete cantata. Dove andiamo? A casa tua. No, a casa tua. No, no, andiamo. No, a casa tua. No, a casa tua. Casa tua è meglio. No, a casa tua. Casa tua è meglio. A casa tua. C'è la stanza dei caschetti. Oh, è andata. Fiorello è fantastico. Riesci a fare spettacolo senza bisogno di copione e improvvisando. Con lui è come fare una partita a tennis. Rispondi con un dritto teso alla sua battuta. Poi se vuoi vai pure a rete e gli tiri un colpo smorzato. Ma lui con scatto felino ci arriva sempre. E se perdi, alla fine il giudice non dice 7 a 0, ma dice 7 to love. Io non credo di aver perso con Fiore, ma love mi piace moltissimo perché io a Fiorello voglio veramente bene. Sei unico, Fiore. Rai, host. Sì. Grazie.